Era già tutto previsto, niente scossoni, nessun brivido. Il summit veneto dei leader del centrodestra, riuniti per guardarsi dritti negli occhi e sciogliere una volta per tutte il nodo del candidato da lanciare nella corsa per la poltrona di sindaco di Vicenza, è andato esattamente come avevamo anticipato. Elena Donazzanda, Wonder Woman, è diventata la donna invisibile, scomparsa dai radar politici. Non è lei la paladina che unisce la coalizione. Detto ciò, la questione viene congelata e anche la candidatura di Fabio Mantovani finisce in freezer, almeno fino a venerdì. Ma ci sono anche delle novità. Innanzitutto i tre partiti, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, hanno stabilito che vogliono, vorrebbero, gli piacerebbe correre tutti insieme. Ovviamente però, se la famiglia s'allarga, Forzisti e Leghisti dovranno mettere da parte patti bilaterali e scambi a due. Ora i partiti sono tre e vengono poste nuove regole. Si ritroveranno il 30 marzo. Per quella data ognuno porterà un nome. Fratelli d'Italia, Francesco Rucco. La Lega, Roberto Ciambetti. E Forza Italia dovrà fare pace con se stessa. Probabilmente scongelerà il nome di Fabio Mantovani, sedotto e abbandonato, lusingato, criticato e gettato nelle acque grosse della politica, dove ha rischiato di affogare. Bisognerà vedere se lui, giustamente scocciato da questo tira e molla, risponderà ancora presente. Intanto ieri è stato fissato l'identikit del candidato ideale. Primo dovrà essere Vicentino, e questo escluderebbe Roberto Ciambetti, ma pure, caso mai ce ne fosse ancora bisogno, Elena Donazzan e in parte persino Fabio Mantovani. Secondo, deve essere un nome capace di intercettare l'elettorato moderato e apartitico. Insomma, è il ritratto di Francesco Rucco, l'alfiere delle liste civiche, già entrato in campagna elettorale e che comunque vada, non farà passi indietro. E' lui che risponde perfettamente all'identikit. Convergere sul suo nome per l'unità sarebbe una via d'uscita dignitosa per tutta la coalizione. Per Fratelli d'Italia non ci sono dubbi, ma la Lega, per precedenze acquisite, lascerà che siano i berlusconiani a decidere. Toccherà a Forza Italia sbloccare la situazione. Sarà a Forza Italia a stabilire se a Vicenza il centrodestra la va o si spacca. Grazie a tutti.